Il 2020 per Esteban Farias non sarà certo un anno come tutti gli altri. Il campione di paracanoa di origini argentine ma fiorenzolano ad adozione a settembre coronerà il sogno di una carriera costellata da vittorie mondiali ed europei gareggiare da protagonista le Paralimpiadi di Tokyo. Da poco tornato da un ritiro in Sardegna dove le condizioni climatiche e l'acqua salata rispecchiano il campo di gara giapponese con la nazionale italiana il campione di KL1 distanza 200 metri è stato l'ospite d'onore dell'ultima puntata di Zona Sport insieme al suo amico sostenitore Walter Bulla. Abbiamo già iniziato a ottobre con la preparazione, stiamo lavorando duramente con il programma federale, facciamo dei raduni in Sardegna di 10-15 giorni per aumentare un po' più il carico. Facciamo un piccolo bilancio di quella che è stata la recente stagione che ti ha visto anche staccare il pass per questo importantissimo appuntamento. Sì, è stato un anno particolare, particolare perché vengono già da due anni che comunque ho fatto abbastanza, ho fatto bene. Sono riuscito a vincere i due mondiali, i due europei e quest'anno l'obiettivo principale era qualificare la barca. qualificarla ce l'abbiamo fatta e abbiamo lavorato tantissimo. Grazie alla federazione, alla società e a tutti quelli che sono stati sempre vicini a realizzare questo progetto della paracanoa stiamo proseguendo nei migliori modi possibili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.